L'Inghilterra allenta il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Riaprono pub e ristoranti dove, obbligatoria la prenotazione, sono vietati i concerti dal vivo, parrucchieri e cinema. La chiusura era stata imposta il 20 marzo, quando erano state registrate 645 nuove infezioni. Questo venerdì i casi sono stati 544. È chiaro che non si può abbassare la guardia, ha ribadito Boris Johnson. Godetevi l'estate in maniera responsabile, ha raccomandato il Premier ai cittadini. L'area di Leicester, particolarmente colpita dal virus, continuerà invece a tenere tutto chiuso. Venite in Algarve per una vacanza sicura, è stato il tweet piccato del primo ministro portoghese Antonio Costa. Una risposta al governo britannico per la decisione definita assurda di inserire il paese insieme alla Svezia fra le mete per cui sarà obbligatoria la quarantena di due settimane a rientro nel Regno Unito. Esenti invece Italia, Francia e Spagna, considerate destinazioni più sicure. Un duro colpo per l'Algarve, le cui coste sono molto amate dai britannici. In Portogallo, dove si contano 43.156 infezioni e 1.598 morti, i numeri crescono ogni giorno di più. I dati sono della Johns Hopkins University, che a livello globale ha registrato 11.740.878 contagi. Grazie. Grazie. Grazie.